Ansar Live, Europarlament News. Benvenuti in Europarlament News, in studio Camilla Di Collalto, in redazione Monica Diamanti. GAS a Parlamento in campo per la crisi tra Russia e Ucraina. Un sistema europeo di crediti per istruzione e formazione. Crisi economica, le imprese italiane chiedono misure strutturali. Parlamento e Commissione europei si sono fortemente impegnati nella ricerca di una soluzione alla crisi tra Russia e Ucraina sulle forniture di GAS da Bruxelles a Marisa Ustolani. Successo della mediazione dell'Unione europea nella guerra del GAS tra Ucraina e Russia. Dopo lunghi negoziati a Bruxelles che hanno impegnato la presidenza cieca, la Commissione UE e il Parlamento europeo, Kiev e Mosca hanno accettato l'invio di una missione mista di monitoraggio in tutti i siti rilevanti per il controllo del transito del metano russo attraverso il territorio ucraino. E le forniture del GAS all'Europa dovrebbero riprendere nelle prossime ore. Il blocco era stato imputato dalla Russia all'Ucraina, accusata di rubare il GAS diretto ai paesi europei, mentre l'Ucraina aveva accusato la Russia di essere stata lei a chiudere i rubinetti. Gli osservatori dovranno ora vigilare sulla riapertura dei flussi a monte e sulla regolarità del transito. Non ci sono più scuse per bloccare i nostri rifornimenti, afferma la Commissione UE, che chiede l'immediato ripristino del GAS e il rispetto dei contratti firmati. Adottare un sistema europeo di crediti per formazione e istruzione per agevolare la mobilità trasfrontaliera dei cittadini è questo l'obiettivo di due raccomandazioni adottate dal Parlamento europeo, il servizio. Il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, HVET, invitando gli stati membri ad applicarlo su base volontaria entro il 2012. Uno dei principali ostacoli ad una maggiore mobilità transnazionale nell'istruzione e nella formazione sta infatti nella difficoltà di individuare e riconoscere i risultati dell'apprendimento conseguiti durante il soggiorno in un altro paese. Il sistema non vuole armonizzare le qualifiche e i sistemi di istruzione e formazione, ma mira ad accrescerne la comparabilità e la compatibilità. Gli stati membri sono inoltre invitati a sviluppare partnership e reti a livello europeo, nazionale e regionale. Le imprese italiane applaudono alle misure adottate dai governi europei per uscire dalla crisi economica, ma chiedono misure strutturali anche per il dopo crisi. Sentiamo il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Federica Guidi. Da un punto di vista europeo credo un rapporto euro-dollaro un pochino diciamo meno svantaggioso per noi quando dobbiamo andare a esportare. Sempre per rimanere a livello europeo tassi di interesse molto più bassi, decisamente più bassi di quelli che abbiamo oggi. E poi c'è da mettere in mano la spesa pubblica corrente. Ricominciare a parlare di misure strutturali per cercare, forse non oggi che non è possibile farlo, ma in futuro un abbassamento della pressione fiscale a vantaggio sia dei lavoratori, quindi dei dipendenti, sia anche dell'impresa. Per questa edizione è tutto. Appuntamento al 17 gennaio. Vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo Europarlament News, chiaccialansa.it Fondi comunitari a rischio per sette regioni europee, comprese Puglia e Calabria. Beniamino Donnici, parlamentare europeo, da tempo è protagonista di un'iniziativa forte per stimolare non solo le amministrazioni locali, ma anche le istituzioni europee a riscrivere le regole dell'utilizzo dei fondi. È una situazione a macchia di leopardo, ma comunque difficile e critica. Noi continuiamo nelle regioni meridionali a restituire i soldi all'Europa e a impiegare male quelli che ci vengono dato da impiegare. Io sto facendo una grande battaglia, perché il dato qual è? È che quando una regione, dopo anni di finanziamenti, di flussi di risorse comunitari importanti, continua ad essere ancora obiettivo 1, oggi si dice obiettivo convergenza, significa che le politiche sono state fallimentali, che le classi dirigenti non hanno assolto i propri compiti. Questo non sempre è responsabilità delle classi dirigenti. Secondo me sono le regole che vanno cambiate, perché non si può lasciare soltanto all'amministrazione locale un impegno così gravoso. Per cui ho chiesto alla Commissione di convocare un tavolo con tutti gli attori e protagonisti, la Commissione, i ministeri competenti, i governatori delle regioni, per riscrivere le regole del gioco, perché così non funziona. L'allargamento dell'Unione Europea 27, l'ingresso di paesi dell'Est, porterà a una diversa rimodulazione della futura programmazione dei fondi. Questo è l'ultimo treno che passa, per esempio per la Calabria, per esempio per la Puglia, per tante regioni meridionali, perché l'Europa nel frattempo è diventata una cosa importante, imponente, 27 paesi, 500 milioni di cittadini e premono le regioni che sono arrivate dall'Est. Non ci possiamo consentire che la prossima programmazione, quella 2007-2013, abbia gli stessi fallimentari risultati che sono stati purtroppo registrati in molte regioni meridionali. Si tratta dunque di un'occasione di sviluppo mancata che gli altri paesi come l'Irlanda, la Spagna e anche la Grecia hanno saputo cogliere invece in maniera egregia. In capacità progettuale e alto numero di frodi, Sicilia e Calabria sono in testa a questa speciale graduatoria. Non sono però le sole responsabili. Sulle cose assolutamente da evitare, Donnici indica il finanziamento a fondo perduto. Non si possono dare agli imprenditori soldi a fondo perduto, che significa creare parassitismo pseudoimprenditoriale, alimentare corruzione. Non a caso Sicilia e Calabria sono le regioni con la più alta percentuale di frodi comunitari. Tra le occasioni mancate di sviluppo, Donnici annovera anche per la regione Calabria le distrazioni di fondi da progetti di sviluppo della portualità a progetti di promozione. Io mi sono interrogato com'è possibile che una regione per esempio come la Calabria spenda tante risorse per promozione, prima di costruire un prodotto, perché intanto la promozione si deve fare su un prodotto che c'è. Quando manca il prodotto, in questo caso il prodotto turistico, il prodotto dell'immagine della Calabria, prima bisogna lavorare sul prodotto e poi promuoverlo. Ansar Live, Europarlement News.